Perco, ho curiosità, no madonna travaglio, ho tempo prezioso, adrenalina, ingasca a primavera, vabbè in questo momento, imparare a usare il mio sacco. Porco dio, ma è possibile, dimmi se è possibile, no che cazzo, mi ha bloccato il compagno, che troione, sono morto, mortissimo, c'è una testiglia di puttana, mamma mia, non credo che l'abbia fatto apposta, questo è un nabbo che non guarda mai dietro e appena ha un pallet lo butta giù. Ah, cazzo, scampano, 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 scampano. Niente, cazzo. Sto seguendo te? Sì. Ma non recupera, cioè, sennò deve sbattare il cazzo, sicuramente. Mica prende l'altro, tu recupera. Sì, ma prende l'altro, perché mi so faccio le 360 per quello che mi camperai. Ma al quarto? No, no, ma sai che mi sa che ci campera per switch? Eh, ora camperei. Ma nabbo di merda. Che cosa dici che ti camperava? Per eh, mi sape lo switch, quindi non so. Non ho capito che switch. Eh, lo switch. Pff, partita. Ahhhh. Ma non penso. No, dunque no, lei non lo senta. Eh, sì, più o meno, però si allontana. Vabbè, ha provato perciò non a liberarsi prossimo. Non sta più camprando. Perché non è venuta fin qua? Scusa, ero qua. Scusa, ero qua. E' andato via dal gancio per venire lì e non neanche provare a venire fin qua che mi avrebbe trovato. Guarda che arriva ora. Eh, vabbè, che cazzo è? Eh, vabbè! What? Reverto, what? Reverto! No, vabbè. Chi è coquittato? Ah no, è morto. Sei suicidato. What? Sì, vabbè, che cazzo è. Voglio un dato morto strecchito a casa. Sì, ma quante lagga! Cosa ce l'hai fatta? Ma solo da me ti stai trasportando? No, mi sto per poter portare in possibile. Cosa ce l'hai fatta? Chi è viv wandata? Chi fa rip? 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 Sì, sono stati trasportati, sono stati trasportati, sono stati trasportati! E' dal compagno? Sì, vabbè il compagno è labissimo! Ha sprecato il palletto nella casa! Oh no dai, non è così nobbo! Ok, si è napissimo! Guarda che la provo! Eh no, mi fa la terza di te! Non è così, non è così! E' un po' di riuscire a trovare l'endgame, quella porta! Ehi, vabbè! Ehi, vabbè! Ehi, vabbè! Ehi, vabbè! Ehi, vabbè! Ehi, vabbè! Esquipa, bro! Esquipa! E' un'jad! ... ... ... ... ... madonna sta giocata è la guerra che ci ha ragionato adesso madonna io mi sto con la clip sto mortito ma il compagno non è un'altra cosa per lenti chiude la botola e i cancelli non so se hai già i cancelli non so se hai già i cancelli non so se hai già i cancelli non so se me la chiude ma è una lotta contro il tempo non c'è ancora chi va soltanto eh no finchè non chiude la botola no eh il problema è che devo trovarla in prima di lui e non so se vedi io ho visto che cazzo è una storia e non la sta pronta mi chido solo Ah, ah, ah. Tu e la clevo!